Rallentamento o cambio di passo? Gli ultimi dati sulla crescita economica cinese dividono gli esperti. Il quarto trimestre ha registrato senza dubbio una frenata per la seconda economia mondiale, con una crescita del prodotto interno lordo solo, si fa per dire, del 7,7%. Lo stesso risultato con cui si chiude l'intero anno 2013, migliore delle attese, ma comunque una battuta d'arresto in confronto alle crescite a doppia cifra degli anni passati. Gli analisti però non sembrano preoccupati, l'economia cinese sta semplicemente cambiando pelle. Da una prospettiva economica globale credo che in questa fase di mutamento, tra i perdenti ci siano quei paesi e aziende che riforniscono la Cina di materie prime. Tra i vincitori ci sarà invece chi si focalizza sui consumi, per cui forse i beni di consumo ad alto volume oppure i servizi come i viaggi all'estero. Dopo decenni di crescita forse nata, trainata da investimenti statali ed esportazioni, la Cina vuole lasciare più spazio ai consumi interni e alle forze di mercato. Per farlo però servono riforme profonde ed una crescita più sostenibile, nonostante grazie alla ripresa globale. Qualcuno parli di rimbalzo per il 2014.